Vorrei essere fieno sul finire del giorno portato alla deriva fra campi di tabacco e olivi su un caso che arriva in un paese dopo il tramonto in un'aria di gomma scura. Angeli pterodattini sorvolano quello stretto cunicolo in cui il giorno vacilla. È un'ora che è peggio solo morire. E su una luce è accesa in piazza, una sala da barba. Il fanale d'un camion scopa d'apocalisse va scoprendo crolli di donne in fuga nel vano del forte e tornerà il bianco per un attimo a brillare della calce. Regina arse concreta in questi umili luoghi dove termini Italia in poca rissa d'acque ai piedi d'un faro. è qui che i salentini dopo morti fanno ritorno col cappello in testa.